è portato a scorrere l'elenco dei personaggi famosi e illustri che sono stati i massoni George Washington, Garibaldi, Mozart, Voltaire, il presidente cileno Salvador Allende, assassinato nel colpo di stato di destra del 1973 Totò, John Wayne, Giovanni Pascoli, il disegnatore Hugo Pratt, Louis Armstrong, Enrico Fermi Questo come a voler dire, vedete quante persone per bene, dei grandi in ogni campo, scienziati, artisti, grandi politici, musicisti hanno fatto parte della massoneria è possibile che tutta questa gente in segreto fossero adoratori del male e dediti a ogni sorta di congiura contro l'umanità mossi da intenti inconfessabili?